Oltre un milione di persone tornano a invadere le strade di Santiago, mentre il governo revoca lo stato d'emergenza e sospende il coprifuoco. Il Cile cerca di voltare pagina pacificamente, togliendo l'esercito dalle strade che a troppi ricordava gli anni bui della dittatura di Pinochet. Dopo quella che si ritiene essere stata la più grande manifestazione nella storia del paese contro le disuguaglianze, il carovita e la corruzione, il capo dello Stato, Sebastian Pignera, annuncia un vasto rimpasto di governo. Ho chiesto a tutti i miei ministri di rassegnare le dimissioni per formare un nuovo governo che sia in grado di affrontare queste nuove richieste e di gestire il futuro. Resta il problema dell'immensa disuguaglianza e del totale sbilanciamento delle ricchezze, il bilancio di una settimana di violenze e di 19 morti, oltre 7.000 arresti e danni all'economia stimati in almeno 1 miliardo e 400 milioni di dollari. Grazie.